Sono tutti minorenni di origine straniera, gli otto giovani identificati e denunciati dai carabinieri della stazione di Villa Opicina, accusati di aver danneggiato la sera del 12 ottobre scorso una Jaguar d'epoca parcheggiata in centro a Opicina. Aveva fatto il giro del web la fotografia in cui i giovani, chi in piedi, chi saltando sul cofano e sul tetto dell'auto parcheggiata, venivano ripresi intenti a girare una sorta di video amatoriale. Tale comportamento aveva causato danni alla carrozzeria per migliaia di euro, come riferì il proprietario della vettura ai nostri microfoni. Ho fatto denuncia perché ho ritenuto opportuno che di fronte a un gesto così inutile, gratuito e senza nessun tipo di spiegazione logica, oltre ai danni che sono stati su un oggetto, quindi è un pezzo di ferro con le ruote, per quanto bello e storico sia, comunque bisogna anche riportare le cose alla loro essenza ogni tanto. Però la gratuità del gesto e il fatto che ci siano delle persone che ritengono di poter comportarsi così su delle proprietà che non sono le loro, sinceramente trovo che sia assolutamente da, quanto meno da perseguire e da capire, soprattutto le motivazioni. Le immediate indagini condotte dai carabinieri che hanno raccolto la denuncia del proprietario della macchina hanno portato all'identificazione degli odierni indagati, tutti minorenni di origine straniera, ospiti di una struttura d'accoglienza che dovranno ora rispondere di fronte all'autorità giudiziaria di dannaggiamento aggravato in concorso.